Potrebbe essere questo il prossimo girone di eccellenza che vedrà impegnate in attesa dell'ufficialità e del ripescaggio del Lions Mons, l'ultimo Montemiletto, altre tre Irpine, Città di Solovra, Audac Cervinara e Virtus Avellino Santostefano. Quello del raccoglamento B sarà una vera e propria serie di miniatura con delle corazzate pronte a giocarsi la quarta serie come le bollitane di Mr. Quaglia e la raclaia di Di Corcia su tutte ma occhio all'apice di Messina e il DG Cuciniello, la Battipaiese di Bomberripa, il Castel San Giorgio di Rocco Fiume che ambisce nuovamente a un campionato da vertice, il Buccino e la retrocessa Santa Maria Cilento. Oltre al Lions dovrebbero essere ripescate o riammesse l'Atletico San Gregorio che ha sfidato qualche giorno fa l'Avellino, il Vittoria Marra e il Salerno un Baronissi retrocesso al play-out. Completano il girone il Calpazio, l'Agropoli, il Sant'Antonio Abate e la neopromossa Virtus Stabia. Nelle prossime settimane la FGC Campania stilerà anche le date e i gironi della prossima Coppa Italia di eccellenza.